Dall'8 dicembre al 31 dicembre i titolari di carte di credito, di carte prepagate, di carte di credito che disporranno almeno 10 acquisti di importo superiore a 15 euro effettuati in negozi come bar, ristoranti, supermercati grandi, distribuzioni, artigiani e professionisti ad eccezione degli acquisti effettuati online potranno beneficiare del 10% di rimborso fino ad un massimo di 15 euro per singola operazione ed un totale di 150 euro mensili. I rimborsi saranno successivamente accreditati nei primi mesi del 2021. Come partecipare? Assicurarsi di essere in possesso dello speed, identità digitale o in alternativa si potrà utilizzare la carta di identità elettronica. Scaricare l'app effettuando l'accesso con speed o carta di identità elettronica. Sull'app si dovranno inserire gli estremi identificativi di uno o più carte di debito, carte prepagate o carte di credito, il canale IBAN del tuo conto sul quale verranno riconosciuti i rimborsi. Una volta fatta la registrazione, il titolare della carta potrà iniziare ad effettuare gli acquisti utilizzando esclusivamente gli strumenti di pagamento elettronici inseriti nell'app per partecipare al programma Cashback. La BCC di Aquara vuole accompagnare questa iniziativa e ha attivato al suo interno un ufficio a disposizione della propria clientela per aiutarla ad usufruire del servizio. Per informazioni è possibile scrivere a annunziata.cicalese.bccaquara.it oppure telefonare al numero 08 28 96 27 55.